Il punto di riferimento è la qualità, la qualità che le aziende e i dipendenti desiderano. Nelle sale e riunioni in modo particolare prodotti standard, semplici, efficaci, che possano soddisfare le scelte dei clienti in ottica di strategia, che possano soddisfare la semplicità d'utilizzo per i dipendenti affinché chiunque entri in una sale e riunioni non deve leggere manuali o chiedere aiuto a qualcuno per attivare la videoconferenza, ma farlo in modo naturale. Sale e riunioni ovviamente che possono essere disponibili nell'ambito di kit che fornisce Logitech presenti, passati, o dico presenti negli annunci recenti che sono stati fatti, insomma che gestiscono sale e riunioni piccole, medie, grandi, configurate con un kit specifico, opportuno, e disponibili per i relativi software, quindi disponibile per Microsoft Teams, per Zoom, per Google, quindi il cliente sceglie il kit adatto alla propria scelta principale da un punto di vista software. Stesso concetto di qualità per le persone che lavorano da casa, che magari non hanno bisogno di un concetto di sale e riunioni, ma comunque sia a casa che in ufficio, intendo nelle sale e riunioni, è fondamentale avere dispositivi kit che offrono audio di grande qualità e soprattutto l'audio diventa importante naturalmente nelle sale e riunioni, se le sale e riunioni diventano ampie, le persone che partecipano nelle sale e riunioni devono ascoltare benissimo e soprattutto quando parlano devono esserci i microfono che rilevano la voce della persona che parla e magari automaticamente tolgono disturbi di audio che possono venire a contorno della riunione. Quindi Live Motting è qualità, qualità a supporto dei dipendenti che fanno smart working e qualità all'interno delle sale e riunioni per farle nel metodo più semplice ed efficace possibile.